A chi non è capitato nella vita di incontrare uno scocciatore, domanda provocatoria d'apertura per avvicinarci al testo della satira 1-9 di Orazio. Uno scocciatore, un amico, una persona, non un amico, un conoscente che sapendo che voi militate in una squadra in cui lui vorrebbe entrare oppure suonate in una banda in cui lui vorrebbe entrare eccetera, chiede secondo il tipico costumo italiano una raccomandazioncella, una raccomandazione. Ecco questa è una situazione che non ha tempo, che è anche dei nostri giorni, a cui si riferisce Orazio nella nona satira del primo libro. È una satira che ha un andamento discorsivo, è un dialogo a dire la verità, è un dialogo perché il poeta sta camminando per i fatti suoi con uno schiavetto al seguito, insomma poteva permetterselo, era ormai famoso, era entrato nel circolo di mecenate, sta camminando per i fatti suoi quando in modo del tutto inaspettato gli si fa davanti un avventore, un tizio, un seccatore propriamente, che cerca di ingraziarsi Orazio perché vuole ottenere da lui di essere presentato a mecenate. Evidentemente Orazio è già nel circolo di mecenate, gode di una certa notorietà, il seccatore lo ha identificato e gli sta addosso e non lo molla. In questo senso si configura questa satira come un mimo, cioè come un testo che era molto diffuso a partire dall'età ellenistica, dall'andamento dialogico in cui si fa riferimento alle situazioni reali, a situazioni quotidiane. Il dialogo rende vivace il discorso e quindi è un mimo come genere per la vivacità, per il richiamo alla quotidianità. D'altra parte, a differenza di altre satire, quello che manca è sicuramente la componente morale, non c'è una riflessione morale, non ci sono degli inserimenti, anche dei semplici riferimenti o una discussione anche alla morale, niente di tutto questo. Il mimo si presenta come una sorta di farsa, cioè di scena vivace, sul cui contenuto poi approfondiremo, e in questa scena viene sì approfondita la psicologia dei personaggi, il loro modo di stare al mondo, il loro modo di proporsi. Sono due personaggi completamente opposti, sono proprio incompatibili l'uno con l'altro e questo è l'ultimo punto che possiamo dire in sede introduttiva, perché da una parte abbiamo il seccatore che è convinto che nel mondo conti avanzare, progredire, crearsi una posizione a danno degli altri, facendo le scarpe agli altri, come si dice, no? Cioè è una logica opportunistica, è una logica da arrivista, da chi compete perché vuole ottenere e con scarsa consapevolezza però dei propri meriti, delle proprie capacità. E dall'altro invece, quindi nella sua visione, nella visione del seccatore, il circolo di mecenate sarebbe un gruppo di gente che è arrivata e che è rivale, quindi che è in rapporti tesi con gli altri, che sa il fatto proprio e non c'è invece niente di quel senso di condivisione, di armonia che invece risulta dalle parole, che sicuramente sono meno accese, di Orazio. Cioè Orazio, è questo il punto, ho detto, non c'è una morale. Ma Orazio qui descrive come all'interno del circolo di mecenate siano in vigore certe leggi che richiamano fortemente quelle che abbiamo visto ieri con la satira sesta, no? In cui c'era l'elogio della dignità, della libertà. Qui nel circolo di mecenate domina l'idea di semplicità, di lealtà, del piacere di condividere gli stessi interessi letterari. E quindi ecco la logica, cioè il mondo di Orazio è un mondo che potremmo definire più puro, rubando le parole del poeta che dice che non esiste nessuna casa più pura della casa di mecenate. E sulla purezza, appunto, mi fermo in questa breve introduzione per dire come, appunto, siano diametralmente opposti i due punti di vista. Il testo apre con il riferimento IBAM, forte via sacra. Il poeta sta camminando tranquillo per la via sacra, come è sua abitudine fare, è immerso nei suoi pensieri, pensieri semplici, dice pensando non so che, non so a quali sciocchezze, nuge, è un termine che ricordiamo dalla poesia di Catullo, no? Le nuge, le poesie di poca importanza, è tutto preso nei suoi pensieri. Per cui a un certo punto viene avvicinato da una persona che conosce soltanto, tanto, nomine, e che gli afferra la mano e subito si dimostra molto, dimostra un approccio molto immediato. Li chiede come sta, lo definisce addirittura carissimo, dulcissime rerum, e l'altro dice bene, almeno per ora, risponde Orazio, e spero che tu, altrettanto, spero che tu possa realizzare tutto quello che vuoi. L'altro lo incalza, perché in quella narrativa, cum ad sectaretur, ad sector è un verbo frequentativo di ad sequor, e quindi significa che continua a stargli sotto, no? Non è che lo seguiva, ma continuava a stargli sotto. E Orazio capisce e lo previene dicendo, vuoi qualcosa? E la risposta del secatore è noris nos, potresti conoscerci, nos, plurale maestatis, dovresti conoscerci, docti sumus, siamo dotti, cioè siamo letterati, siamo uomini di lettere. Allora, a parte il plurale che già gli dà importanza, si dà importanza anzi, ma che dica docti sumus, fa sfoggio della propria passione letteraria, esibisce il suo sapere, capite? E già qui sbaglia, perché nel circolo di mecenate non c'è una gara di chi sa di più, e quindi la partenza è negativa, docti sumus. E Orazio, in tono sarcastico, dice allora per questo mi sarai più caro, michi eris pluris, cioè sarai per me di più come genitivo di stima. E poi abbiamo il poeta che cerca in tutti i modi di allontanarsi, però misere, cioè in modo infelice, quindi senza un esito positivo, si allontana, poi si ferma, poi dice qualcosa nell'orecchio al suo servo e intanto suda. E in quell'espressione del sudore che scende fino ai talloni si esprime tutto il suo disagio, perché ha capito che non facilmente si libererà del secatore. E c'è un'invocazione a Bollano che noi non conosciamo, ma che evidentemente doveva essere una testa calda, in testa sua considera la felicità e un maccharismos, come sappiamo, di Bollano, che evidentemente avrebbe saputo in questo momento congedare il seccatore in termini molto veloci, no? E allora Orazio intanto pensa alla sua situazione, non la vede rosea alla prospettiva, intendo, e poi dice che l'altro però intanto continuava a cianciare, garrire, noi diciamo che è il garritto, il verso delle rondini, e quindi vuol dire che non ha neanche senso quello che dice, parla, 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 straparla, e quindi è uno scocciatore, chiacchierone. Loda, vicos, urbem, loda la città, ma in realtà Orazio intanto se ne sta in silenzio. L'altro però capisce, capisce che Orazio, di nuovo il misere, l'avverbio, desideri allontanarti, lo vedo, ma io usco e tenebo, ti terrò costantemente, cioè li starà continuamente sotto, persequar, ti perseguirò, ti perseguiterò, non ti mollerò, no? Ricordate che nella didone morente c'è il persecutore, il vendicatore, che è Annibale, ma qui invece è una persecuzione rappresentata dalla sua presenza, dall'ostinazione dello scocciatore che non vuole, non intende lasciare il poeta. E gli chiede dove si stia dirigendo, dove sei diretto. Orazio dice che non c'è nessun bisogno, nihil opus est, che lui si accodi, che lui lo segua, perché dice che deve andare in visita, soltanto questo riesce a dire, voglio visitare un tizio che tu non conosci, quindi della serie Smammano, che abita oltre il Tevere. L'altro purtroppo dice che non ha nulla da fare, non è pigro e quindi continuamente lo seguirà. E qui c'è una prima immagine di una reazione con una similitudine, c'è la reazione di Orazio che dice che abbassa le orecchie come un asinello inique mentis. Di solito l'espressione non è con inicus, ma con ecus. Faccio riferimento, vi aiutano le note in questo senso, all'espressione per esempio equo animo, con animo sereno. Invece Orazio si sente un asinello che ha abbassato le orecchie e che è tutt'altro che sereno, è in una situazione di disagio ed è anche rassegnato perché la situazione dell'asinello che abbassa le orecchie è riferita al momento in cui gli mettono un peso sul dorso. E qui c'è il discorso del secatore che è un secondo momento in cui noi possiamo identificare la logica distorta sua rispetto a quello che pensa Orazio. Dice, se io mi conosco bene, dice di sé, non stimerai facces pluris amicum, vuol dire non stimerai di più amico, visco e nemmeno vario, citando due persone che erano evidentemente membri della cerchia di mecenate, erano poeti della cerchia di mecenate, di cui noi sappiamo di vario sappiamo che era un poeta epico e tragico e invece dell'altro di visco sappiamo che doveva trattarsi comunque di un poeta o di un grammatico, persone del circolo di mecenate, e che il secatore è convinto che Orazio posporrà a lui, li stimerà di meno. Perché? Perché lui dice fondamentalmente tre cose che sono una peggiore dell'altra, perché dice chi infatti potrebbe scrivere di più, scrivere più versi o chi potrebbe scrivere con maggior fretta. Plures versus oppure Cizius, più rapidamente. Ora dice due cose sbagliate, perché secondo i principi dei poeti dell'epoca, che sono i principi poi della lirica di età ellenistica, quando si scrive, uno è consigliata la brevitas, quindi non è più bravo chi scrive più versi. Faccio un riferimento che noi non abbiamo al momento evidente. Prima di Orazio fu Luciglio a scrivere le satire. Ebbene, Orazio biasima Luciglio perché dice che il suo scrivere è lutulentus, cioè è fangoso, lutulentus. Significa che quando Luciglio scrive, scrive con scarsa cura formale. E questo lo dico per dire che la scrittura richiede applicazione, attenzione, richiede labor lime, per cui il secondo aspetto che lui vanta, il seccatore, la capacità di scrivere versi in velocità è assolutamente da respingere, non è una qualità. E poi dice chi potrebbe muovere le membra in modo più molle. Qui fa riferimento alla danza e alla capacità di muoversi, ma con il corpo intendo, e arriva ad affermare addirittura che persino Ermogene potrebbe essere invidioso di quello che lui canta. Quindi citando un poeta, Ermogene Tigeglio, che era una celebrità dell'epoca, e quindi il seccatore prende come esempio una celebrità dell'epoca per rimarcare la propria superiorità. E a questo punto il poeta interviene. Dopo questo sproloquio, lui pensava di vantare dei meriti, invece l'effetto è esattamente l'opposto, si chiede il poeta, gli chiede anzi, se non ci sia una madre oppure dei congiunti ai quali quibus, quel qui sta per quibus, sia necessario che il seccatore sia salvo, sia in una condizione di incolumità, che poi è una cattiveria, perché vuol dire che se va avanti così qualcuno prima o poi lo pesterà, gliela farà pagare. Ma proprio per questo dice, ma non c'è una mamma o dei parenti, dei congiunti che possano avere a cuore la tua salvezza, della serie ravvediti figlio mio. E l'altro nega, l'altro dice non ho proprio nessuno, omnes composi, li ho sepolti tutti. Il comporre, che per noi il comporre poetico vuol dire il disporre in ordine, è detto della salma, quando si seppellisce, quindi lui li ha tutti morti, li ha tutti sepolti e quindi Orazio dice felici loro, ora resto io e poi dice confice, che confice vuol dire dammi la mazzata, finiscimi, allora facciamola finita. Quindi voi notate che l'atteggiamento di Orazio da una parte è rassegnato, perché appunto ha abbassato le orecchie come un asinello, e dall'altra invece è anche un atteggiamento ironico, no? Cioè finiscimi vuol dire dammi il colpo finale. Per ironizzare ulteriormente c'è un nuovo argomento che viene chiamato in causa, che è l'argomento dell'oracolo, perché il poeta ricorda che il suo triste destino gli era stato annunciato da una vecchia sabella, i sabelli in riferimento agli abitanti della zona peninica dell'Italia meridionale, insomma c'è l'idea di un'anziana donna che quando era giovane gli predisse, dopo aver scosso l'urna, che lui sarebbe morto. Allora c'è una profezia, no? Lui in questo momento rischia di morire per colpa delle parole dello scocciatore e si ricorda, mette in campo, l'idea di una profezia che gli avrebbe ricevuto da piccolo. Costui non consumet, al verso 33, costui non sarà ucciso, no? Non lo ucciderà né un veleno, un duro veleno, quindi il dira venena, né la spada di un nemico, né la pleurite che il dolore ai fianchi, né la tosse, né la tarda podagra, che evidentemente è tarda perché rallenta, è la malattia dei piedi che rallenta il passo, ma una volta per tutte e quando, comunque, prima o poi, lo consumerà, lo ucciderà un garrulus. Garrulus, come prima era garriret, vuol dire un chiaccherone. È ironico perché richiama una profezia in cui si nominano le situazioni peggiori, il veleno, le spade dei nemici, le malattie come la pleurite e rispetto a queste, non di questo egli sarebbe morto, ma per le chiacchiere di uno scocciatore. E in sintesi, eviti i chiaccheroni, vitet loquaces, si sappiat, se è saggio, eviti i chiaccheroni e non appena, simulatqua ad oleveri, non appena sarà divenuto adulto. Una profezia. Qui Orazio ha come modello l'episodio del Polifemo dell'Odissea, in cui Polifemo, ingannato da Ulisse, ricorda, purtroppo tardi, che aveva sentito, aveva avuto una profezia, ricevuto una profezia, secondo cui egli sarebbe stato vittima di un abile parlatore. Si era giunti al Tempio di Vesta e qui c'è un nuovo elemento, perché la satira tiene, è una narrazione, secondo me ha una scrittura quasi cinematografica o comunque è molto curata la costruzione del testo, perché tutti dall'inizio si chiedono come Orazio riuscirà a liberarsi di questo scocciatore. Il dato nuovo è che lo scocciatore doveva presentarsi in giudizio perché aveva presentato delle garanzie, quindi aveva dei guai con la giustizia e se non l'avesse fatto avrebbe perso il processo, quindi l'esito del processo sarebbe stato compromesso. Per questa ragione lo scocciatore chiede ad Orazio se sia disponibile ad accompagnarlo, ma Orazio dà una risposta che ci ricorre immediatamente quanto aveva dichiarato sulla sua libertà nella satira sesta, dice possa io morire se o sono in grado di stare in piedi come gli avvocati o se conosco il diritto civile, cioè della serie vada e retro questo non mi compete, è una dichiarazione di assoluta estraneità rispetto agli ambienti dove si celebrano i processi. E l'altro di fronte a questa risposta dice sono un po' incerto sul cosa fare, se lasciare te al verso 41 oppure se lasciare il processo. Te ne ne an sono le due particelle che caratterizzano l'interrogativa digiuntiva in latino. E dice me, dice il poeta, lascia me sodes che sta per si audes, se osi, cioè fammi un favore, lasciami stare, ma l'altro non recede, non lo farò e incomincia a precederlo addirittura. E io lo seguo, cioè lui va avanti e Orazio lo segue poiché è duro contendere col vincitore, ut contendere durum est cum victore. E adesso c'è la parte, c'è il piatto forte, arriva adesso, perché è la parte in cui si entra in argomento, è per questo che lo scocciatore ha avvicinato Orazio. Com'è tra mecenate e te? Mecena squomodo tecum, come va con mecenate? E riparte da qui, riprende da qui. Risposta lapidaria, è un uomo di poche conoscenze e di mente sana. E risposta lapidaria con cui Orazio mette in evidenza la saggezza, la mente sana di mecenate e il fatto che non ami circondarsi di tante persone. E l'altro ci fa intendere come secondo lui vadano le cose con mecenate e il suo circolo. Nessuno è stato più abile a sfruttare la fortuna. E poi subito la richiesta, tu avresti un grande aiutante in me, un aiutante che potrebbe farti da spalla, usa il lessico teatrale perché ferre secundas, si intende partes, vuol dire sostenere la parte della spalla sulla scena. Se tu volessi raccomandare, si velle stradere, un hominem, cioè me, se tu mi volessi presentare io ti aiuterei, ti sarei, sarei per te un'ottima spalla. Possa io morire addirittura con un congiuntivo desiderativo se non sarei in grado di allontanare tutti. Mi vengo un colpo se non li avresti già tolti di mezzo tutti su un movio, no? Cioè della serie un ambiente in cui ci si fa strada a gomitate o a sgambetti, ma non è questa l'idea. Tant'è vero che Orazio spiega, ma noi non viviamo lì isto modo, in questo modo che tu credi, cioè come tu pensi. Ribadisce, nec ulla domus est purior ac e non c'è nessuna casa più pura di questa, né una casa più estranea, magis aliena, is malis, a questi mali. Non mi importa nulla, lui dice esattamente nil mi officit, che significa non mi è di ostacolo, non mi dà fastidio che uno sia più ricco oppure più dotto. Perché, ed è bellissima l'espressione che arriva alla fine, est locus unicui quessus, c'è un proprio posto per ciascuno, c'è un posto adatto per ognuno. Dove addirittura c'è quello che tecnicamente si chiama unat mesi, cioè quando una parola viene separata nelle sue componenti. Voi sapete che in latino esiste unus quisque, che significa ciascuno. Ebbene qui Orazio divide uni e poi cuique, proprio per ribadire come per ciascuno ci sia un luogo adatto. La reazione è magnum narras, cioè mi racconti una cosa enorme, un'enormità, vix credibile, astento credibile. Eppure sta così e mi accendi ancora di più del desiderio di essergli vicino, di essergli molto vicino. Ora, quel magnum narras vuol dire proprio narri, sembra quasi che quello che dice Orazio sia qualcosa di leggendario, di mitico, no? Narri una grande cosa, racconti una grande cosa, astento credibile. Eppure sta così, ma proprio la reazione che lui non ha capito evidentemente, non ha capito il senso delle parole, è che a maggior ragione lo scocciatore desidera essere presentato. E con ironia Orazio dice che tu lo voglia soltanto, che tu lo voglia soltanto, cioè basta che tu lo desideri, è expugnabis, ea, un sottinteso, un determinativo, que tua virtus est, e lo espugnerai sicuramente con il tuo valore, con quello che è il tuo valore. Parla di virtus, cioè attribuisce una virtus allo scocciatore, ma chiaramente è ironico. Fra l'altro dice expugnabis, ma non si tratta, non è mica una roccaforte, nella logica dello scocciatore sì, il circolo di mecenate è una roccaforte a cui bisogna arrivare, no? Ma è una metafora militare, non c'è nulla di militare nel modo di vivere, è un mondo pacifico, insomma. E dice che proprio, che tuttavia i primi approcci di mecenate, con mecenate, sono difficili proprio perché lui può essere facilmente vinto, anzi non c'è il facilmente, l'ho aggiunto io. Siccome si può vincere, si può conquistare mecenate, per questa ragione nei primi approcci è più difficile. È chiaro che lo sta illudendo, no? Sta dicendo una cosa che per l'altro potrebbe avere senso, significato, ma non è questa la realtà. L'altro che non ha capito dice dunque non verrò meno a me stesso, corromperò i servi con i doni, non desisterò se oggi sarò stato lasciato sulla porta, cercherò l'occasione opportuna, gli andrò incontro agli incroci. Deducam significa che lo accompagnerò come un servo che segue il padrone o un cliente che segue il patrono. Non ha capito nulla, ma è incalzante, sono tanti verbi insieme, corrompam, desistam, queram, deducam, sono tutti futuri che dicono di come lui abbia già una strategia in mente per riuscire ad espugnare la roccaforte di mecenate. Stride la sua conclusione, perché la sua conclusione, noi che veniamo dalla lettura delle georgiche di Virgilio, sappiamo che Giove ha dato la fatica al labor agli uomini perché si ravvedano, perché siano attivi. E lui parla di labor ma riferito ad un ambito completamente differente. Dice che niente, anzi il soggetto è la vita in questo caso, la vita dedit nichil, non diede o non dà, perché è un'espressione proverbiale, la vita non dà niente ai mortali, sine magno labore, senza grande fatica. E quindi la frase è una massima, una massima che esprime una saggezza profonda, tutti noi siamo d'accordo che la vita non regala niente e che il labor è necessario, ma voi capite che c'è labor e labor, qui sta parlando di un labor che sono le azioni opportuniste di uno che vuole, che vuole, che aspira all'arrampicata sociale, non alla scalata sociale, al successo. E mentre parla di questo ci abbiamo la conclusione, perché quest'ora la parte più succulenta e che è quella che mette in evidenza l'incompatibilità tra le due visioni di vita, accade che si faccia incontro, vado in velocità sintetizzando, un tale che conosce lo scocciatore. Il tale conosce lo scocciatore, tale Fusco Aristio, conosce lo scocciatore e sa benissimo che Orazio è in una situazione di forte difficoltà, perché sa che non lo mollerà. E allora Orazio, è comico anche questo, perché Orazio dice che lo prende per le braccia, nutans, gli fa cenni con il capo, distorquens oculos, muove gli occhi perché l'altro lo strappi dalle grinfie dello scocciatore. E l'altro invece fa finta di non capire e a questo punto la bile di Orazio sembra quasi accendersi. A me la bile bruciava il fegato. Poi c'è una parte su cui non ci soffermiamo, ma restiamo su Orazio e sullo scocciatore. Orazio, a cavallo fra le due pagine, tra 72 e 73, deplora il fatto che per lui sia assorto un sole così nero, solem tam nigrum, con un'antitesi forte, evidente, ma è una giornata, no, una giornata contraria a cui lui deve pur far fronte. Il furfante si allontana perché dice che fuggiti in probus, appunto è Fuscaristio che si allontana, e mi lascia sotto il coltello, subcultro, che è un'espressione colloquiale, significa che lo lascia nelle grinfie del suo aguzzino. Ecco, per puro caso, è questo che lo salva, viene incontro l'avversario dello scocciatore che gli dice dove vai, canaglia, quo tu turpissime, e chiede ad Orazio se gli sia possibile fargli da testimone, cioè se può seguirle in tribunale. E a questo punto Orazio usa un'espressione che richiama quella dell'asinello che abbassa le orecchie, dice oppono auriculum, cioè gli porgo l'orecchio. E Orazio viene trascinato, ma lo fa volentieri perché vuole farla pagare a questo scocciatore, viene portato in tribunale come testimone. Si registra il clamor, si registrano le grida, si registra il concursus, la correre delle persone, e Orazio conclude questa satira vivace con un'espressione che è sic me servavit Apollo, e così Apollo mi ha salvato. Questa espressione, così mi ha salvato Apollo, in realtà è la traduzione di una scena alta, epica, dell'Iliade di Omero, è la scena tratta dal ventesimo libro dell'Iliade, in cui abbiamo l'intervento dello stesso Dio per strappare Ettore dalle grinfie di Achille. E c'è proprio l'espressione così mi ha salvato Apollo, ed è un verso fra l'altro che lo stesso Luciglio aveva ripreso. Allora vi ho citato prima il richiamo alla profezia fatta a Polifemo. Qui il richiamo evidentemente al duello tra Ettore ed Achille, che tutti ricordiamo, e allora significa che Orazio, pur essendo un testo dall'andamento discorsivo, talvolta innalza con dei riferimenti letterari il discorso. E ancora, restando su questa pagina, è interessante osservare che il lessico è tipico dei sermones, cioè delle satire di Orazio. Le satire, Orazio le chiamava sermones, che vuol dire discorsi e conversazioni. E siccome si tratta di discorsi, è evidente l'intento di ricrearli con un certo realismo, ed è evidente un tratto peculiare che è la mimesi del parlato. La mimesi vuol dire limitazione. Si cerca di riprodurre nello stile le caratteristiche del linguaggio quotidiano.